Sono passati solo pochi giorni da quando il 23 febbraio scorso il parroco della Chiesa Sacro Cuore di Agropoli, Don Nicola Grifo e quattro volontari dell'Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace sono partiti per una missione umanitaria nei campi profughi delle Saraui. Tra questi Antonio Giacco, presidente dell'Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace, Francesca De Padova, volontaria e responsabile accoglienza, Luisa Piscopo, volontaria e responsabile dei volontari e Matteo Corona, volontario e responsabile dei rapporti istituzionali dell'Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace. Il primo giorno della missione i volontari hanno visitato l'ospedale di Bola dove Rossana, una donna dall'immenso coraggio, ha offerto loro l'opportunità di visitare una struttura straordinaria che ospita otto bambini disabili. Nel pomeriggio invece hanno incontrato il governatore di Smara che ha esposto e descritto ai volontari i problemi che affliggono il popolo di quel posto. La serata si è conclusa poi con una cena a base di cammello. Nel corso del giorno seguente invece i protagonisti di questa missione umanitaria hanno visitato una fabbrica di ceramica che ha mostrato loro la voglia di rivalza di questo popolo. In questa fabbrica le donne stavano ultimando le medaglie della Sara Marathon che si è tenuta il giorno successivo. Nel pomeriggio i volontari hanno incontrato alcuni bambini che sono stati ospiti nella città di Agropoli ed è stata una forte emozione vedere per loro come nonostante la vita difficile siano cresciuti. Infatti ogni anno nella cittadina agroporese vengono accolti diversi gruppi di bambini provenienti da quei luoghi per lo più da accampamenti profughi. Poiché il popolo Sarau è stato allontanato dalla sua terra natia ed è costretto a vivere in campi profughi nel deserto del Sara dove d'estate le temperature raggiungono anche i 60 gradi per tale ragione diversi paesi e associazioni umanitarie attivano progetti per far andare via i bambini da quel luogo per il mese di agosto. Il caldo eccessivo potrebbe ucciderli così una volta accolte nella città di Agropoli i bambini hanno la possibilità di visitare il cilento e le bellezze del territorio, fare attività di animazione e stringere nuove amicizie con bambini agropolesi. I volontari della missione umanitaria faranno rientro il prossimo 5 marzo.